L'ASL ci ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo sul suo profilo Facebook è il sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri. La catena dei contatti è stata ricostruita, sottolinea Alfieri. Ho provveduto ad attivare tutte le procedure di mia competenza e a convocare il centro operativo comunale che in questo momento è già al lavoro. Niente allarmismi, sottolinea Alfieri, ma osserviamo tutti con il massimo scrupolo le disposizioni relative al distanziamento sociale. Mi sia consentito, conclude il primo cittadino, un pensiero di vicinanza alla persona che sta vivendo questo momento difficile. Appena avremo altri aggiornamenti ve li comunicheremo tempestivamente. Ad essere il risultato positivo al covid-19 al momento è solo un cittadino di Capaccio. Nei giorni scorsi si era recato nel Napoletano per un intervento. Probabilmente potrebbe avere contratto lì il virus.